I Fratelli dello Spazio, Federazione Galattica della Luce, attraverso Antea.hacket, 14 luglio 2024. Domanda, come avviene la procreazione nella vostra civiltà? Zucco, la procreazione avviene attraverso la meiosi, per mezzo del contatto linfatico che avviene non attraverso i genitali, ma attraverso le ventose di cui sono provvisti i palmi delle nostre mani. Sono ventose minuscole, nelle cui superficie è presente la mappatura genetica di tutte le razze di questo universo. A secernere la linfa che andrà a mescolarsi con quell'altrui, generando un altro simile. Tale linfa, una volta mescolatasi, verrà espulsa sotto forma di piccolo embrione, che però si svilupperà in un ambiente asettico che noi chiamiamo lupio, una sorta di incubatrice gigante che accoglie al suo interno più di 50 embrioni per volta. Il tempo di crescita e sviluppo equivale al tempo terrestre di tre mesi. Siamo soliti utilizzare sofisticate tecniche di ingegneria genetica per preservare e conservare il più possibile la sacralità del nostro genoma. Scendiamo la procreazione dal vostro mero piacere genitale e sessuale. Per noi esiste l'energia organica, a cui dovete tendere anche voi con il risveglio della ghiandola pineale. L'energia organica consente a tutti gli esseri coscienti di questo universo di connettersi con la coscienza cosmica, generando così la forza creatrice, meglio conosciuta come amore spirituale. Essa si attiva attraverso la preghiera e la meditazione, con il raggiungimento di un piacere incontenibile, provocato dallo scioglimento della linfa organica, che la ghiandola pineale se cerne dopo l'assoluto abbandono degli stati mentali tipici della materia e delle suggestioni.